In uno dei luoghi più caratteristici di Atessa, il convento di Vallaspra, ahimè chiuso al pubblico e anche ai riti religiosi da diversi mesi, torna per alcuni giorni a miglior vita, diciamo così, grazie alla troupe che sta realizzando un cortometraggio ambientato, tra le altre cose, proprio all'interno del convento di Vallaspra, conosciuto come San Pasquale per gli atessani e non solo. Giuseppe D'Angella è uno dei due registi di questo cortometraggio al quale cedo il microfono per spiegarci in breve la trama. Sì, molto semplicemente il cortometraggio segue questi due preti di questa piccola comunità di un paese in provincia, abbiamo un prete più anziano che sta per diventare vescovo e quindi lascerà la sua eredità alla comunità, al prete appunto in questo caso più giovane. Siamo praticamente alle battute finali, il prete più anziano sta diventando vescovo ma avviene un tragico incidente che avrà entrambe coinvolti e loro passeranno un'intera giornata in preda al turbamento di quello che è accaduto, cercando di fare la cosa giusta o proseguire per quello che è la loro strada. Simone D'Alessandro è l'altro regista di questo cortometraggio il quale si sofferma sicuramente sulla location che è proprio adatta alla realizzazione ottimale di questa storia. Sì, in questa location abbiamo trovato praticamente tutti gli ambienti che ci servivano, non solo la chiesa ma anche l'ufficio, corridoi, quindi la fortuna è stata proprio avere in un unico ambiente, in un unico posto tutti i vari set e quindi grazie al comune di Atessa abbiamo avuto la possibilità anche di sfruttare questa cosa. Cristiano Di Felice è il direttore artistico dell'IFA, la scuola di cinema con sede a Pescara, che è praticamente colei che sta realizzando questo cortometraggio. Come è nata questa idea e come vengono coinvolti i ragazzi dell'IFA in questo progetto? Allora, questa idea chiaramente nasce dai nostri laboratori di scrittura tenuti dai nostri docenti, poi andiamo in fase di realizzazione e in questo momento stiamo realizzando appunto questo cortometraggio. La cosa interessante è che nel comune di Atessa ci sono ragazzi che arrivano da tutta Italia, perché oltre il 70% degli allievi IFA arrivano da fuori regione, quindi è anche un modo per il territorio per farsi scoprire da ragazzi e anche poi le famiglie a loro volta che arrivano appunto da diverse parti d'Italia. Quindi è un'occasione per la scuola, per scoprire sicuramente delle location originali e nuove, ma anche per il territorio e che colgo l'occasione a ringraziare il comune di Atessa e l'assessore per averci dato la massima e piena disponibilità. L'IFA possiamo definirla come una scuola ma anche una bottega perché praticamente offre ai ragazzi l'opportunità di scendere subito in campo? Sì, certamente, perché è una scuola che è prettamente pratica, quindi ogni anno realizziamo in media dalle due alle tre produzioni, poi quest'anno si sono anche accumulate, visto l'anno scorso dove si sono bloccate un po' tutte quante, quindi in questo momento siamo proprio a pieno regime e vedere tutti questi ragazzi operare, ma anche in un ambiente così sicuro perché all'interno del convento abbiamo trovato tutte le location di cui i registi necessitavano e per noi è anche un modo per aumentare la produttività senza gli spostamenti tra una location e un'altra. Prima si parlava di un prete e infatti lo abbiamo proprio adesso ai nostri microfoni, Andrea Di Luigi che è uno degli attori di questo cortometraggio, proviene da Ascoli Piceno e sta vivendo questa bella esperienza insieme all'IFA, scuola della quale lui ha fatto parte o fa anche parte adesso. Sì, ho fatto parte della scuola, mi sono diplomato circa due anni fa e è stato un bellissimo percorso perché mi ha dato la possibilità di mettermi alla prova proprio sul set, quindi di fare pratica con la macchina da presa e ho avuto la fortuna di girare diversi progetti che poi sono stati distribuiti e adesso diciamo che questa collaborazione sta continuando nonostante il mio percorso sia finito e sono molto contento di questo, che Cristiano mi tenga ancora in considerazione, che anche i ragazzi mi tengono ancora in considerazione perché per me è importante comunque continuare a mettermi alla prova e diciamo sperimentare più che posso questo mestiere, ecco, mettermi alla prova proprio sul campo penso sia la cosa più importante in assoluto e la scuola mi ha sempre dato la possibilità di farlo. Sei più a tuo agio nel lavorare con colleghi della tua stessa età, molto giovani, oppure si impara di più girando dei film con registi, produttori più affermati? Beh, diciamo che in ambienti come questo si respira una tranquillità che in produzioni magari più grosse non c'è, quindi si ha la possibilità anche di parlare, di avere dei dialoghi, di andare a esplorare molto di più, invece spesso in ambiti televisivi è tutto molto più veloce, poi dipende anche un po' dal ruolo che hai, se hai un ruolo principale magari hai possibilità di confrontarti di più con i registi o comunque con la direzione artistica, invece quando hai ruoli piccoli e sei in una produzione molto grande non hai modo, insomma, di fare domande, non hai modo di esplorare più di tanto. Invece in questo corto, per esempio, ho avuto la possibilità di parlare tanto con i miei registi e di confrontarci su tutto, su tutte le scene, sul personaggio, sul background e questa è la cosa che mi affascina di più tra l'altro, avere la possibilità di costruire insieme, perché il lavoro parte da molto prima del set fondamentalmente. Si dice solitamente che se uno fa il lavoro che piace non lavora neanche un minuto nella propria vita, è questo quello che volevi fare da bimbo? Si, io in realtà, poi ho cominciato a fare il musicista quando avevo 13 anni, però quando ero molto piccolo mi piaceva sempre mettermi davanti alla macchina da presa, c'era mio nonno che girava sempre dei filmini quando andavamo in vacanza, mi piaceva creare delle storie quasi come un regista e poi mettermi davanti alla macchina da presa quando potevo. E poi, diciamo, questa idea, questo sogno si è trasformato in qualcos'altro, sempre nell'ambito artistico, ho cominciato a suonare la batteria, sono entrato in un gruppo e poi casualmente ho incontrato un amico che frequentava questa scuola che mi ha consigliato di scrivermi e dopo le prime due lezioni di recitazione ho perso la testa completamente, ho lasciato tutto il resto e mi sono messo a fare questo. Sì, credo proprio che avere la possibilità di fare questo mestiere significhi non lavorare mai, significhi vivere con il massimo dell'entusiasmo tutti i giorni della propria vita, si sono d'accordissimo su questo. Oggi presente a una delle giornate del Ciac di questo cortometraggio anche l'assessore alla cultura Giulio Orsini. Prima, lo dicevo, anche a uno dei registi, è stata anche l'occasione questa per rimettere in piedi, per riportare in vita questo convento ahimè purtroppo abbandonato dagli ecclesiastici ma che meriterebbe sicuramente di più. Beh, è un convento che va conosciuto e che direi va vissuto. Certo, l'abbandono da parte degli ecclesiastici ci ha lasciato privi di anche una custodia di questo bellissimo convento e di tutta questa bellissima località di Vallaspra che però è certamente nei nostri pensieri, è certamente una località che va valutata e rivalutata dalla nostra cittadinanza e dagli enti che se ne devono occupare soprattutto anche dalle nostre associazioni. Quindi contiamo molto di coinvolgere alcune delle associazioni, anche quelle ambientaliste per esempio anche nella cura di questi bellissimi posti che fanno appunto circondario al convento. Oggi è un'occasione bellissima quella di trasformarla in un set cinematografico e dare la possibilità poi a chi vedrà questo cortometraggio anche di conoscere il convento di Santa Maria degli Angeli e quindi questa bellissima località di Vallaspra così che possano anche incuriositi appunto dalla visione cortometraggio venire a visitarla ed essere appunto ospiti della nostra città. Questa scuola è una delle più rinomate anche se non è molto conosciuta l'IFA. Lei prima parlava con il direttore artistico, si potrebbe far conoscere anche alle scuole di Atessa la potenzialità di questa scuola IFA? Quando ci hanno proposto questo progetto la scuola IFA è venuta dicendoci che si era innamorata di questo posto. Il direttore dice che i ragazzi quasi per caso hanno scoperto il convento di San Pasquale si sono innamorati di questo posto e vogliono qui realizzare il cortometraggio. A quel punto, questo è già avvenuto più di un anno fa, purtroppo poi la pandemia ha bloccato tutti i tempi di realizzazione, di preparazione, realizzazione di questo cortometraggio. E quando ci siamo visti però la prima cosa che io gli ho chiesto, va benissimo, va bene far conoscere il nostro convento però le devo chiedere una cosa, le devo chiedere di parlare ai nostri giovani, ai nostri ragazzi della realtà che voi portate avanti e quindi aiutarli a conoscere anche innanzitutto un mondo nuovo che è quello del cinema in tutti i suoi aspetti perché come mi diceva prima il direttore, il mondo del cinema non è soltanto l'attore ma parliamo di regista ma parliamo anche dei tecnici e quindi degli elettricisti, dei cameraman, dei fotografi, dei costumisti, cioè dei doppiatori, quindi sono figure particolari che i nostri giovani dovrebbero conoscere così da ad esempio pensare anche che possa essere una delle loro possibili strade di vita e di lavoro. Quindi con il direttore dell'IFA siamo già d'accordo, dovevamo farlo durante quest'anno scolastico ma purtroppo la pandemia ce l'ha impedito perché non era possibile nemmeno l'accesso nelle scuole, faremo questo breve corso, comunque insomma prospetteremo queste realtà ai nostri giovani, alle nostre scuole alla riapertura del prossimo anno scolastico e chissà, può essere anche che poi qualcuno dei nostri studenti potrà poi scegliere anche di frequentare la scuola di cinema IFA a Pescara visto che è una realtà anche vicina a noi e oltretutto una realtà di grande prestigio e di ottima professionalità.